ariete siete ansiosi di realizzare ciò che agli altri non è riuscito e quella di oggi è la giornata ideale per farlo la fortuna vi è sfacciatamente favorevole toro la situazione è favorevole e potete contare sul sostegno di tutti questo dovrebbe consentirvi di ottenere il successo in qualsiasi impresa o quasi gemelli avrete un'opportunità per mettervi in mostra oggi quello che conta non è tanto quello che fate quanto come e quando lo fate cancro vi verrà accordata una maggiore discrezionalità nello svolgere un certo compito questo non significa che dobbiate fare tutto di testa vostra ordinatevi col lavoro degli altri leone prenderete una decisione che aumenterà le vostre probabilità di vincere una certa competizione non date nulla per scontato però e non abbassate la guardia vergine se volete evitare le complicazioni oggi dovrete fare in modo che tutto si svolga nel modo più semplice e che gli altri rispettino le vostre direttive bilancia fareste bene a ripensare la vostra strategia presenta infatti un punto debole di cui non vi eravate accorti ma che vi rende troppo vulnerabili scorpione vi troverete alle prese con una situazione domestica che non avevate previsto preparatevi ad avere una giornata piuttosto turboletta sagittario se fosse per voi avreste già preso una certa decisione a frenarvi sono gli infiniti dubbi e obiezioni delle persone a voi più care capricorno i motivi per i quali vi siete sempre tenuti alla larga da una certa situazione hanno cessato di esistere potrete avvicinarvi senza perplessità o timori acquario gli altri graviteranno nella vostra orbita per le ragioni più disparate quello che conta è che potrete contare sul sostegno di una quantità di persone pesci sarete in grado di individuare immediatamente i punti deboli nell'offensiva che un vostro avversario ha scatenato contro di voi smontarla sarà un gioco da ragazzi grazie a tutti